Elisa, la signora ha innescato anche con la chiesa ufficiale, chiedo a Don Marcello perché so che è una persona con la quale si può dire davvero di tutto, come ha vissuto questa vicenda anche nel ruolo di sacerdote? La storia con tanta passione ma anche con tanta amarezza, la passione è di continuare ad accompagnare, mi rifaccio proprio al ragionamento di prima, loro vuol dire che se è stato condannato, che vorrebbe farla finire lì, ce l'hanno anche detto, ce l'hanno mandato, Elisa viene ritrovata nel sottotetto di quella chiesa il 17 marzo, è venuto duro perché quella storia era una storia che stava per essere dimenticata, facendo il gioco di qualcuno, facendo davvero il gioco, in cui anche la stessa mamma di Elisa spesso entrava in quella chiesa a portare fiori sistematicamente a quella statua della Madonna scoprire che Elisa, che per 17 anni era stata cercata in mezzo mondo, Elisa era lì, era un passo da casa sua, era un passo dal centro di potenza, era un passo dalla mamma quando andavamo intorno a quella chiesa in questi 17 anni, quante volte siamo andati lì, abbiamo ripercorso quel tragitto che noi immaginavamo potesse essere stato l'ultimo